Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Scontro frontale mortale fra due auto sulla statale 284 all'altezza dello svincolo di Paternò. A perdere la vita una donna di 61 anni, gravemente ferita invece la nipote di 19. Non in pericolo di vita il conducente della BMW finita in ospedale per ulteriori accertamenti. Emergono nuove notizie sull'omicidio del 22enne Rosolino Celesi, che ha ucciso a colpi di pistola nel centro di Palermo. Potrebbero essere due fratelli responsabili dell'assassino del ragazzo, in attesa dell'autopsia sul corpo esanime. Una donna di 51 anni è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione per aver stalkerato una coppia di amici nel lontano 2015 a Comitini. La pena inflitta è risultata addirittura superiore alla richiesta da parte del pubblico ministero. Un'emissione di cenere dal cratere Bocca Nuova, che ha generato una modesta nube di colore grigio chiaro, è stata osservata sull'Etna dall'INGV di Catania. L'emissione di cenere, cominciata alle 15.13, si è esaurita dopo circa 7 minuti. Per domani, venerdì 22 dicembre, in Sicilia sono previste piogge sparse, soprattutto sul settore nord-occidentale, coinvolgendo Trapani, Palermo e Messina. Le province più calde risulteranno essere Catania e Siracusa, con massime di 18 e 19 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13.30.